A facoltà di parlare il senatore Paragone per illustrare la questione pregiudiziale 1. Prego senatore. Grazie presidente. Nemmeno 24 ore fa eravamo avvolti in un dibattito dove l'Europa era centrale nel senso di importanza politica in uno scenario delicato come quello del conflitto in Ucraina. L'Europa era al centro di ogni intervento, l'Europa è stata richiamata, l'Europa è stata invocata, l'Europa è stata persino spinta a darsi una maggiore consistenza sotto il profilo politico. Voi sapete benissimo le mie posizioni rispetto all'Europa, all'Unione Europea, avendo messo in piedi un partito che si chiama Italexit e quindi non ho una grande considerazione del progetto europeo o unionista. Però mi rifaccio e mi rimetto sulla scia delle vostre parole anche per costruire un pezzo della pregiudiziale. Perché se è vero che ancora una volta questo Parlamento si ritrova a fare i conti con l'abuso della decretazione d'urgenza e se ancora una volta questo Parlamento si ritrova a fare i conti con le tante questioni di fiducia, le tanti voti di fiducia, è altresì importante richiamare lo scollamento che c'è tra la normativa italiana e la normativa europea, quindi di quell'Europa di cui continuate in un certo senso a invocare il rispetto e la costruzione. Allora, noi abbiamo che attraverso la decretazione d'urgenza è stata costruita praticamente tutta l'impalcatura normativa dell'emergenza Covid e però ad un certo punto anche qualcun altro, qualche altro soggetto, quindi l'Unione Europea, stava tentando di dare una risposta normativa che rendesse omogenei gli interventi dei Paesi membri dell'Unione Europea. Quindi, tra questi, vi è il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea numero 953 del 2021. Allora, proprio andando nelle pieghe di questo regolamento, in particolare dell'articolo 3, com. 1 e 7, che vieta la discriminazione con riferimento al possesso di uno dei tre tipi di certificazioni verdi, guarigione, vaccino e tampone rapido molecolare, ritenendo equivalente dal punto di vista scientifico il certificato verde derivante dal tampone antigenico con quelli comprovanti la vaccinazione o la guarigione, dobbiamo capire che una cosa esclude l'altra. Cioè che il super Green Pass, il Green Pass rafforzato, toglie uno dei tre elementi con cui finora avevamo costruito un pezzo anche della nostra emergenziale vita quotidiana. Da qui il succo, da qui il nodo che poniamo nella questione pregiudiziale, che è un nodo che, ripeto, è politico innanzitutto e poi sta diventando anche di carattere sociale, nel senso che ci pare difficile riuscire a immaginare i giorni futuri, il periodo futuro, stando ancora nella dinamica di una continua esibizione, di una continua ostensione di un QR code, di un codice, di un Green Pass. È quasi come se avessimo sostituito i nostri nomi, le nostre carte d'identità, con un quadrato magico. Io penso che questo sia né in linea con l'addensante della Costituzione, che è ben più che la somma degli articoli. È un qualcosa che mette l'individuo al centro. Però, proprio alla luce di questo regolamento, io penso, ritengo, che il decreto che andiamo a discutere sia scollato, sia in antitesi, sia penalizzante. Da qui invito i colleghi a fare una riflessione su che cosa vogliamo a questo punto scegliere. Vogliamo battere la via della soluzione italiana, nazionale, per uscire dall'emergenza o, come mi sembra nello spirito di quest'Aula, lo ripeto, lo dice uno che non crede all'Unione Europea. Però deve fare i conti con i regolamenti che ci sono, con le normative che ci sono. Quindi sta a voi la scelta di dire se il regolamento dell'Unione Europea ha un senso oppure no. ha maggior ragione se questa indicazione arriva dentro il regolamento che è tra le norme, tra gli atti normativi dell'Unione Europea, il più forte, il più vincolante, in tutte le sue parti. E allora perché continuiamo ad andare avanti per una strada che, a, non impatta più sulla vita dell'oggi, perché non siamo assolutamente più in quella emergenza di un tempo. Ma da un punto di vista così normativo va a sbattere con quello che indica il regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea. è un Green Pass rafforzato che rischia di essere indebolito proprio alla luce di questa conflittualità. Mi rimetto anche su un altro ordine di considerazione. Qui forse un po' più politico, ma che sta ancora una volta dentro la Costituzione, che non prevede in alcun modo le discriminazioni tra gli individui. E' bello che le piazze italiane si animino prima e non solo di manifestazioni contro il Green Pass, che ci sta il dissenso, ce lo permetterete, ma è anche bello che le piazze italiane si stiano riempiendo al grido di no guerra e si pace. E quindi benvenga tutta questa confluenza, tutta questa partecipazione larghissima di persone. E io sono sicuro che dentro quella piazza si troveranno persone che magari non avrebbero partecipato insieme a delle manifestazioni contro il Green Pass. E potrebbe accadere che il sabato o la domenica vanno in piazza a dire no alla guerra, ma poi il lunedì qualcuno sarà discriminato perché non in possesso del Green Pass rafforzato e quindi sarà escluso dal lavoro. E quindi escluso, diciamo, da un suo diritto costituzionale. Allora, se io mi auguro che ovviamente lo scenario di guerra vada a concludersi nel più breve tempo possibile, ma se così non fosse è sacrosanto il diritto dei cittadini di dire no alla guerra. Ma è attresì sacrosanto denunciare la paradossale situazione per cui io mi ritrovo a dire no alla guerra, sia alla pace, a stare insieme in quella piazza con tante altre persone, ma magari il lunedì io non posso andare a lavorare perché sono stato penalizzato. E quella penalizzazione è esclusa dal regolamento dell'Unione Europea. così come trovo paradossale il fatto che a maggior ragione è dentro una situazione di emergenza che un lavoratore che magari è privo del super green pass rafforzato non possa andare a lavorare perché sta dentro l'obbligo vaccinale per categoria professionale ma è guarito. E quindi in teoria non è più esposto, non è più un pericolo, né per gli altri. E allora per quale motivo una persona guarita e che avrebbe diritto al super green pass rafforzato nel mondo della scuola, nel mondo delle forze dell'ordine, nel mondo della sanità, quindi nelle tre categorie professionali che sono state segnalate, marchiate dall'obbligo vaccinale non può avere diritto a tornare sul posto di lavoro. Ecco, io vi invito quantomeno a dire sì o no su una pregiudiziale che vi consentirebbe perché io lo so che dentro quest'aula ci sono sensibilità politiche anche diverse. Magari qualcuno avrebbe voglia di smarcarsi e dire basta con questa emergenza trascinata fatica. Allora, siccome non siamo un QR code, siccome siamo tutti ben consapevoli delle discriminazioni che possono nascere e si possono alimentare, io vi invito a prendere in considerazione proprio questo aspetto. Vogliamo essere, volete essere pienamente europeisti oppure volete in qualche modo difendere soltanto l'attività del governo. E questo è il succo della questione pregiudiziale che rimette il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio europeo vi rimette proprio al centro. Quello è il pallone con cui dobbiamo giocare. Grazie Presidente.